No no no, dì no, dottore, dottore... E voi mi bloccate tutti voi, dottore, a me ne datevi le chiamate! Eh no, sposta la mano! Ma quanto tempo è stato? Un pochi minuti, maronna, ma quanto è scocciante questa? Uè, e stammi vicino, che io addosso ho i soldi contanti, hai capito? Tu mi devi stare vicino. Appattato! Sì, non ti preoccupare, con calma. Ma sei sicuro che sono le Nikon F4S, quello con il doppio bussante a scatto? Ce l'ho già uno io, tale e quale! L'ho pagata 3 milioni e 850 mila lì. Eccolo, eccolo là, quello lì, vedi? E' quale? Quello lì, quello sì è così, quella lì. Quello è uno che assiste i soldi, non è come te cassino a me e me. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo qua, piano, piano. Ah, sì, sì, ce l'hanno il doppio bussante. Ma sei sicuro che sono rubate? Sono state pigliate, ieri mattina e domani a due giapponesi. Allora, che dovete fare? Le volete prendere? Tutte e due, 4 milioni. Ma che sei scenduto? Facciamo tutte e due, 500 milioni. Ma Panarone, mi potete rovinare. Facciamo tutte e due, 3 milioni. No, 800 milioni. Ma non è possibile, abbiate pazienza. Io tengo famiglia, scusate tanto. Quando vi prego, facciamo tutte e due, 2 milioni. Invece facciamo tutte e due, un milione e basta così. E va bene. Mannaggia, morto, managgia. Dove dici? Sta pioendo, sta pioendo. Aprivi, lì, aprivi, lì. Metti dentro, poi, di dentro. Vai, 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 vai. Ti dì? Non si volevi venire in terra, ma non siamo sbagliati. Dove vuoi? Da sette milioni e settecentomila. Per la misera somma di un milione ci siamo portati a casa e niente, papotevino che... L'F4S con doppio possante che vi è morto. Mannaggia, morto. Ma io ho denunzio. L'hanno pottuto. Ma io ho denunzio ma io lo faccio arrestare a sta caragna. Grazie, dottor, grazie. Grazie di fuori. Ma dove stanno commissariati qua? Ma che cazzo? Abbiamo fatto il pacotto pure a voi. Ma dove stanno? Là dietro. Era uno secco, secco, tutto nero che i capelli spennati. Eh? Si chiama Scarrafone. Ogunus! Di bene. Da chi? Da me non c'è sta niente. Ma, da che voi potete... Andiamo. Ascoltà. Ma, secondo voi... Aspettate, un momento. Ma, secondo voi, io vi davo due nicolini che costano 4 milioni all'uno per un milione. Eh, vabbè, hai ragione. Ma vedi, che puoi fare? Eh, queste sono bravi persone. Eh, babù. Se mi dà un altro milione io vi consegno le macchine per a me. Il carrafone. Vi rongono un milione a te. Aspettate, non vi preoccupate. Io le macchine le consegno a lui. Quando lui vi consegne le macchine vuoi gli dare i soldi. Babù. Aspettate. D'accordo. Aiuto! 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 Oh, finalmente! Quanto pacco! Quanto pacco! Uno, due, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Vado a voi! Vado a voi! Vado a voi! Vado a voi! Dottor, 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 immagini, immagini! A me per me non ci sta niente. Facci da un presto, regalo, regalo per me. Eh, la polizia, la polizia, fuite! Non perdiamo la calma. Vado a voi! Va, 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 là, là, là. Mannamie, bella, manamie, bella! Ehi! Che è? Ehi! Eh, la sirina! La sirina! Ma quale polizia? Ma quale polizia? Gesù! Gesù, ma come cazzo ha fatto a scambiare il pacco? E poi forza! Tu ti sei messa a guardare la femmina nuda! E perché tu cosa guardavi? La femmina nuda! Scusate, ma c'è almeno una speranza di trovarli? Di recuperare i soldi? E adesso vediamo! Ma che vediamo, marescià? Noi siamo i figli del costruttore Ghiglione! Ah, sì? E fatelo venire! Con questi ha voglia a costruire! Va bene, come sta? A disposizione! Agli ordini, l'ottore! Permetto, no? Se lo signore mi consente, no? Questo è il materiale proveniente da sopra al petraio? Sì! Vi hanno fregato uno o due volte? Due! Pacco e doppio pacco! Scarafono e fornò! Ma allora voi li conoscete? E glielo potete dire voi al maresciallo? Questo è l'ultimo posto dove dovevate venire per una truffa del genere? Aspettate! Ma che significa ultimo posto? Io li avrei già restati a tutti quanti, invece noi, io sono un ex maresciallo dell'arma, gli avranno le mani legate, glielo darei io il garantismo! Perciò sì! La verità è che uno li dovrebbe fottere con le loro stesse armi! Eh, maresciallo, e come? Gli hanno fatti il pacco e il doppio pacco, e uno gli fa il contropaccotto! E che è il suo contropaccotto? Però il commissario non deve sapere niente, eh! Venite a presto a me! Eccolo, maresciallo, è quello del secondo pacco, il parcheggiatore! E con noi si doveva una vecchia conoscenza, no? Ebbene, non arrestatevi! Sshhh! E volete le macchine fotografiche, sì o no? E allora statevi zitti e lasciatemi fare! Guardate e attenzione! Ecco, adesso ho spinto la mano di Scarafone! Ecco, lo scambio e il pacco è fatto! Disgraziato, fermo! Fermo, le polizioni! Sì, da fare spesa! Sì, da fare spesa! E morire! Sì, da fare spesa! Mamma, cazzo! Disgraziato! Disgraziato! Venite qua! Ecco qua! Grazie! Uomo, grazie! Questo è il corpo del reato, è roba sequestrata! Non so se possiamo! Potete, potete! Allora, ecco! E questo è tutto! Non abbiamo più niente! Va bene, andacciamo! Grazie! Uscite subito dalla zona che quelli che ne hanno visto! Se no se vi acchiappano e li fanno il culo tanto a tutti e due! Andate! Vai qua! E vai a mangiare, papà, che la pizza si fa fredda! No, papà, già te lo ricordo con un ammaraduto! Oggi ci stai in minestrone, lo vuoi? Ehi, magari con due codi, che va? No, signore, che ti fanno male! Dagli due patate bollite! Eh, sì! Oì, sempre tutta spugliata, a mezzo a quelli scala piena d'umidità! Non ci sta un'altra che... Dile, tu che dici? Io dico no! Sei andata a scuola? E' domani che bisogna scrivere un guagliote! Eh, e si debbono comprare pure un sacco di libri! Ci vogliono assai soldi! Ah! Proprio adesso me lo devi dire! Che? Ti fa male un'altra volta lo stomaco? No! Cazzo, maglina qua! Questo è Nikon! Mio nipoto fa il fotografo, sarebbe interessato a comprare! Quelli soldi li tiene, li paga a Bello! Senti, noi queste teniamo! Con queste qua dobbiamo vivere tre famiglie, vedi? Fa una cosa, dammi un po' di vino rossa, va! Un po' di vino, me lo posso aprire? Sì! Ma poco, se no poi la notte non dormi! Ma se non dormo non hai far il vino! Oye, fa una cosa, passi passato lì e pì! Anna Maria! Ehi, Anna Maria, poti fare la soffritta a papà! Che sto parlando fa il tuo, come sempre!